I militari della Guardia di Finanza di Monza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due persone indagate per associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona. Gli arrestati, già noti per vicende analoghe, erano a capo di un'organizzazione criminale finalizzata alla truffa nel settore delle false associazioni benefiche, cui hanno partecipato altre 36 persone indagate nell'operazione denominata Cuore Falso. Le Fiamme Gialle di Monza hanno iniziato le indagini nel 2016, a seguito di alcune segnalazioni, su probabili truffe da parte di soggetti che, spacciandosi per volontari di organizzazioni caritatevoli, raccoglievano dagli anni cittadini somme di delaro spese poi solo per scopi personali. Lo scopo dei truffatori era chiaramente quello di eludere i controlli delle forze dell'ordine sul territorio e trarre in regalo i donatori. Abbottano ad oltre 110.000 euro i proventi illeciti della falsa beneficenza quantificati dai finanzieri.